Saluto a tutti, ben Dr. Olocio. Allora, mi parto pregno in la 103a Universale Congresso di Esperanto, che ho accaduto in Lisbono, Portugaliio. Inoltre, la Universale Congresso è un programma scientifico tra l'Internativa Congressa Universitato, ICU. E la ICU, in fact, ICU è un serie di prelegoi per diversi aspetti di stienso. Ciare, noi abbiamo prelegoi per biologio, astronomio, linguistico, per demografio, per diversi politiche e afferroi. Yes, due veri diversi afferroi. Inoltre, mi me prelegis in la ICU per planeto scienzo, che ciò vi potete vedere sul canale. Inoltre, mi registrati anche altri prelegoi, che vi potete vedere sul canale. Exemple, è il prelegio per l'Hidrargo, in la natura. E anche il prelegio per le biologiche di base di mensuogo. o prelegoi per l'Angla, per esempio, che è la deveno della anglilinguola. Il tutto il programma scientifico di questo congresso, vi potete trovare sul reteio dell'OEA. Mi metto la legione e la prescrivo. E inoltre, inoltre, ciò vi potete trovare il libro dell'IQ, con tutti i prelegi, i resumi, e l'enhovo delle prelegi. Dio, ci sono molto interessanti. Ci ci sono inoltre il congresso per il successo del programma. E, potremmo, ci sono ancora disponibili nel libro servo dell'OEA. Potremmo, potremmo. ma vi raggiungo la prescrivo mie metodigiloche alle resumi, e alcuni informi quali i prelegi, ma, non lo faccio, vi vedete il loro, o almeno alcuni alcuni di loro, nel canale. Anca pensi indes che dunque l'Universario Congresso e dunque l'ICU partoprendi sufficio da scienziistoi l'ISAE, l'internatica scienza socioesperantista. Dovi anche povos vidi prelegoi di qualche LTIUI homoi, e vi anche povos vidi baldau interviuo, che mi faccio con la vicepresidenta di l'ISAE, per la agado di l'ISAE, per la estontezza, per chi vi povat helpi, per chi l'ISAE povat helpi vin, e, in generale, per stienzo e esperanto. Da, tiom vi anche baldau videos sur la canalo. No, questo è tutto. Grazie per voi attenti, e, quando ci piace il film, vi ringrazio e abbono il canale. Ciao!